In questa unità di pratica prendiamo in considerazione il meccanismo di potatura alfa-beta sull'algoritmo minimax proposto da McCarthy nel 1956. Illustriamo questo meccanismo di potatura direttamente con un esempio, poi vedremo un algoritmo, di nuovo ancora un esempio, e poi faremo delle considerazioni finali. In pratica McCarthy si accorse che non era necessario sviluppare tutto l'albero mediante la ricerca in depth first per propagare le funzioni di payoff dai valori statici, quelli iniziali dati dall'erogo del gioco, fino allo stato iniziale per consentire al giocatore che muove il primo di capire qual è la mossa che deve compiere. Non è necessario sviluppare tutto l'albero, quindi siamo in una ricerca in profondità, cerchiamo di capire perché, muove max per primo dallo stato A, avrebbe a disposizione due mosse, B e C, la ricerca viene sviluppata in profondità, per cui esamine prima cosa succede se compie la mossa che porta in A, a questo punto toccherà a min che avrebbe due contromosse, che porterebbero sotto il gioco in D ed E, toccherebbe a questo punto di nuovo a max, nello stato D a max ha due mosse a disposizione, ricordiamoci il punto che sviluppiamo in profondità, che porterebbero lo stato del gioco negli stati H ed E, a cui toccherebbe di nuovo giocare a min, ma in realtà sono due stati terminali, il gioco finisce, per cui allo stato H abbiamo una funzione di payoff per max 6, supponiamo un gioco a somma 0, quindi meno 6 sarà il payoff per min, e nello stato invece, e quindi a questo punto D, max saprebbe che in D guadagna 6, ma poi va a vedere anche nell'altra mossa, che porterebbe in un altro stato finale, in cui guadagnerebbe 5, perché a questo punto max sa che nello stato D guadagna 6, perché max massimizzerà, a questo punto sappiamo che anche, che nello stato B, min, che dovrà minimizzare, male che gli va, perderà 6, perché qualora nello stato E perdesse di più, ovviamente non farebbe la contronunza nello stato B che porterebbe nello stato E, e quindi, però non lo sa, e quindi a questo punto, si deve sviluppare ulteriormente la ricerca in profondità, e quindi, si va a vedere cosa succede nello stato E, nello stato E, max a questo punto avrebbe, due possibili mossa di esposizione, uno che lo porterebbe nello stato J, che è uno stato finale, e un altro pure in un altro stato finale K, si va a vedere la funzione di utilità per lo stato finale J, che è 8, a questo punto max deve massimizzare, e quindi, può tranquillamente, sopporre, prima ancora di andare a esaminare il valore della funzione di utilità dello stato K, che nello stato E, lui avrà un'utilità maggiore, uguale a 8, perché appunto lui massimizza, però cosa succede a questo punto, che succede che, poiché la funzione di utilità legata allo stato E, sarà maggiore o uguale a 8, e, nello stato B, Min, sa che guadagnerà, che perderà, al massimo 6, cosa succede, succede che, si capisce a questo punto, che è inutile andare a vedere, il valore dell'utilità dello stato K, perché, se K fosse minore di 8, non propagherebbe il suo valore allo stato E, se K fosse maggiore di 8, si propagherebbe il valore allo stato E, ma è inutile che lo facesse, in quanto che, allo stato B comunque verrebbe ignorata, la cosa, perché, nello stato B, Min, ne minimizza, e quindi sceglierebbe l'azione, che lo porterebbe, che porterebbe il stato gioco, nello stato D, quindi è del tutto inutile, andare a vedere, qual è il valore, del gioco, nello stato K, adesso qui, il guadagno, in questo esempio, è veramente, è piccolo, perché, però supponiamo, se questo qui fosse stato, tutto un albero, sarebbe stato potato, questo albero, e quindi, questo è un esempio, di un primo esempio, di potatura, e la potatura, sotto, un nodo Min, sappiamo a questo punto, che nel nodo B, il, il giocatore Min, valorizzerà 6, nello stato del gioco, e quindi, ci sarebbe, un guadagno 6, per Max, Max a questo punto, sa che dal gioco, guadagnerà almeno 6, perché Max, massimizza, bisogna vedere, cosa succede, nell'altro ramo, quello che passa, per l'altra azione, che porterebbe, nello stato C, nello stato C, si va a vedere, Min avrebbe a disposizione, due contromosse, una che porta, nello stato F, una che porta, nello stato G, nello stato F, Max avrebbe a disposizione, due mosse, che porterebbero, negli stati finali, L ed M, il valore, dello stato finale, L, è 2, e quindi, ad F, l'altro è 1, e quindi, ad F, sappiamo, che ci sarà, un valore 2, e quindi, Min minimizza, allo stato G, sappiamo che, Min, sa che perderà, al massimo, due, perché minimizza, qualora, in G, perdesse di più, ovviamente, farebbe la scelta, di portare, lo stato G, in uno stato F, a questo punto, però, siccome, allo stato C, c'è un guadagno massimo, per A, per Max, di 2, e, nell'altra mossa, quella che abbiamo appena visto, invece, abbiamo ormai, sappiamo con certezza, che ci sarebbe un guadagno 6, a questo punto, è del tutto inutile, andare a sviluppare, l'albero, che sta sotto, al nodo G, perché, indipendente, se avesse, in G, restituisse, un valore minore, maggiore di 2, non verrebbe preso, in considerazione, da Min, se, se si disse un valore, minore di 2, comunque, non sarebbe preso, in considerazione, dallo stato iniziale, da Max, perché, sceglierebbe, altre alternative, per cui, è del tutto inutile, andare a sviluppare, il sotto albero, legato al nodo G, e quindi, in pratica, quello che stiamo vedendo, sono due, esempi, di, potatura, una potatura, alfa, che è quella, che si verifica, sotto a un nodo Max, e una potatura beta, che è quella, che si verifica, sotto a un nodo Min, alfa e beta, sono come due, guardrail, che, due, meccanismi di potatura, nello sviluppo, di un albero, dell'albero di Minimax, che consentono, di, poter, fare, molte meno mosse, poi vedremo anche, di stimare, quante, quante meno mosse, quindi sviluppare, molti meno nodi, preservando, l'ottimalità, la completezza, ovviamente, l'ottimalità, della strategia, Minimax. In pratica, cercando di, generalizzare, questo meccanismo, di potatura alfa, potremmo dire, che, che, si può tenere, la mossa, di Max, senza generare, esaustivamente, l'albero, perché, i due concetti, sono speculari, vediamo solamente il primo, dato un nodo Max, N0, con un'utilità, attuale, maggiore di alfa, per farla crescere, si dovrebbe trovare, un nodo Min, figlio, N1, con un'utilità, maggiore di alfa, ma, poiché, Min, minimizza, perché ciò sia vero, bisogna che, tutti i figli, di Min, cioè di N1, abbiano, un'utilità maggiore di alfa, quindi, appena si trova, un figlio, N2, di N1, con un'utilità, minore di alfa, a questo punto, tutto il resto, di sotto albero, con un radice N1, può essere potato, perché, non ha alcun senso, portarlo avanti, perché, sappiamo che, questo non contribuirà, a far crescere, il valore di utilità, del nonno, che aveva un valore di utilità, alfa, sotto c'è, il concetto, questo sarebbe, la potatura, beta, sotto c'è, il concetto, la potatura alfa, sotto c'è il concetto, della potatura beta, in pratica, questo significa, andare a modificare, leggermente, l'algoritmo minimax, esattamente, come, ho riportato qui, in queste due, riprenziature, questo è, l'algoritmo minimax, che conoscevamo, con, in più, questi due parametri, alfa e beta, che vengono, portati avanti, sia, dalla funzione, valore max, che dalla funzione, valore min, che si riporta, dopodiché, quando si va a valutare, per ogni stato, il valore, che, viene, verrebbe, restituito, come valore min, nel caso, di valore min, e come valore max, nel caso, di valore max, si va a vedere, se questo valore, è maggiore, di beta, nel caso, del valore min, in questo caso, viene restituito, altrimenti, si restituisce, il maggiore, fra alfa, e v, e, il, il concetto, è speculare, nel caso, della, della, della funzione, valore max, un modo, molto, efficiente, per implementare, questo, questo, meccanismo, che adesso, andiamo a, illustrare, è questo qui, è quello di concepire, due, variabili, alfa e beta, dove alfa, sarebbe il limite minimo, dei nodi max, che inizialmente, viene messo, a meno infinito, e beta, è il limite massimo, dei valori min, che inizialmente, viene messo, a più infinito, nell'algoritmo, che stiamo per vedere, illustrare, i nodi max, aggiornano alfa, e i nodi min, aggiornano beta, a partire dai valori figli, ai nodi min, si termina, di valutare i figli, se uno di loro, ha meno del valore corrente, di alfa, dualmente, ai nodi max, si termina, di valutare i figli, se uno di loro, ha più del valore corrente, di beta, se a un certo punto, si trova, che i due limiti, alfa e beta, i due cardelei, si incrociano, e quindi, alfa e maggiore, di beta, si termina, totalmente, di valutare i figli, come stiamo per vedere, ogni nodo, quando va, a espandere un figlio, gli passa, i suoi valori correnti, di alfa e beta, i nodi figli, aggiornano solo, la loro copia, di alfa e beta, e qui, ma non la, non la mandano al padre, i nodi, mentre invece, i nodi max, restituiranno al padre, il loro valore alfa, e i nodi min, restituiranno al padre, solo il valore beta, adesso, qui, ovviamente, da questa slide, non è che si è potuto capire, tutto, ma adesso vediamo un esempio, eventualmente, per commentare l'esempio, tornate indietro, a esaminare questa slide, e tutto sarà chiaro, partiamo da questo esempio, questo è l'albero, che andremmo a sviluppare, adesso lo, lo saminiamo in maniera, graduale, lo sviluppo dell'algoritmo, di bottatura alfa beta, in versione, una versione particolarmente efficiente, dunque, si parte dallo stato iniziale, a cui, vengono associati, le coppie di valori, alfa e beta, meno infinito per alfa, e più infinito per beta, si va a sviluppare, la prima mossa, che può fare max, nello stato iniziale, quindi si genera il figlio beta, a cui viene passata, quella coppia alfa e beta, a questo punto, tocca a min, min genera il proprio figlio di, che è un nodo terminale, e quindi, ha già un valore di payoff, dato dal problema, dalle regole del gioco, che è 3, questo è il valore di payoff, per max, ovviamente, e in questa versione dell'algoritmo, di bottatura alfa beta, min va a aggiornare, min è un, è un nodo min, per cui aggiornerà beta, il suo parametro beta, con il valore, che diviene restituito dal figlio, effettivamente, lo aggiorna, perché beta era, più infinito, 3 è meno di più infinito, e siccome min, deve minimizzare, effettivamente, aggiorna, il parametro beta, perché 3 è minore di infinito, e beta era infinito, a questo punto, si sviluppa, anche il secondo figlio, del nodo B, che restituisce 5, poiché 5 è maggiore di 3, dovrebbe aggiornare beta, ma non viene aggiornato, perché min deve minimizzare, e quindi, il valore di beta, non viene aggiornato, rimane a 3, e quindi 3, essendo B, un nodo min, min, residuisce, il nodo min, residuisce beta, al nodo padre, e viene restituito, quindi, il valore 3, il nodo padre, con il valore restituito dal figlio, residisce, valorizza, il parametro alfa, quindi, con il 3, residuito dal figlio, il nodo max, va a modificare, il valore di alfa, e, siccome, max, deve massimizzare, e, aveva un valore di alfa, meno infinito, 3 è maggiore di meno infinito, e quindi, effettivamente, aggiorna il valore di alfa, con il nuovo valore, che viene dal figlio, 3, si passa, a questo punto, a valutare, l'altro figlio, c, a cui vengono passati, i due valori correnti, di alfa e beta, cioè, 3 e infinito, a questo punto, c, va a valutare il proprio figlio, f, e gli passa, i due parametri, 3 e infinito, f, va a valutare il proprio figlio, i, e gli passa, i suoi parametri, 3 e infinito, e, a questo punto, i genere il proprio figlio, che è un nodo terminale, k, che ha un valore 0, e quindi residisce 0, e, i è un nodo, max, max, min, max, min, è un nodo min, chiedo scusa, e quindi, con questo 0, va ad aggiornare, il valore di beta, che lungo questo percorso, era, al momento era più infinito, min deve minimizzare, siccome 0 è minore di infinito, quello che era infinito, adesso diventa beta, per cui i due parametri, attualmente, sono 3 e 0, alfa e beta, e, cosa succede? Che, a questo punto, i due parametri, alfa e beta, si sono incrociati, perché, alfa dovrebbe essere minore di beta, adesso invece, in questo caso, il nodo i, alfa è maggiore di beta, e quindi, in corrispondenza, di questo, di questo nodo, non si va più, a sviluppare, nodi, nodi figli, e, essendo questo, un nodo min, restituisce, il proprio valore di beta, al padre, e, quindi restituisce 0, il padre, è un nodo max, si vede arrivare, dal nodo figlio 0, dovrebbe aggiornare, il proprio valore di alfa, massimizzando, poiché 0, è minore di 3, non cambia nulla, rimane 3, e quindi, si va a sviluppare, l'altro figlio di F, che è un nodo terminale, che restituisce 5, 5, effettivamente, è maggiore di 3, perché questo valore 5, viene utilizzato per, modificare il parametro di alfa, F è un nodo, è un nodo max, quindi massimizza alfa, 5 è maggiore di 3, quindi modifica alfa, a questo punto, il nodo F, non ha più nulla da sviluppare, quindi restituisce, il suo valore di alfa, lui è un nodo max, al genitore, e quindi restituisce 5, il genitore, che è un nodo min, utilizza questo 5, per aggiornare, il suo valore di beta, che era più infinito, perché min minimizza, e quindi 5 è minore di infinito, a questo punto, per il nodo C, abbiamo che alfa è 3, e beta è 5, quindi alfa è minore di 5, è tutto ok, si va a generare, il secondo figlio di C, a cui si passano questi due parametri, 3 e 5, G va a vedere il proprio figlio M, che è un nodo terminale, viene restituito 7, che effettivamente viene utilizzato, per aggiornare, dentro G, che è un nodo max, e il valore di alfa, che passa quindi, da 3 a 7, a questo punto, si ha di nuovo, un incrocio, perché, alfa è 7, e beta è 5, alfa dovrebbe essere minore di beta, invece qui è maggiore, e quindi c'è la potatura, di nuovo, non viene sviluppato, tutto il sottoalbero, legato al nodo N, l'eventuale sottoalbero, in questo caso, è il nodo terminale, insomma, non viene per niente valutato, viene restituito da G, al genitore C, il valore 7, è restituito il valore alfa, perché G è un nodo, è un nodo max, questo valore di alfa, dovrebbe essere, a questo punto, utilizzato da C, che è un nodo min, per aggiornare beta, ma 7 è maggiore di 5, e quindi C aggiornerebbe 5, solo per un valore minore, e quindi 7 è maggiore, non viene aggiornato, rimane 5, a questo punto, si va a valutare l'altro nodo, H figlio di C, che ha un valore terminale 4, effettivamente 4 viene restituito, e effettivamente 4 viene utilizzato, questa volta, per aggiornare beta, perché beta è 5 dentro C, e invece viene passato 4, e a questo punto, il valore di beta diminuisce, per C i due parametri sono, alfa 3 e beta 4, questi due parametri vengono, no questi due parametri, C è un nodo min, quindi deve restituire, beta e restituisce 4, a questo punto, con questo valore 4, deve andare ad aggiornare, la propria copia di alfa, che diventa 4, non c'è una slide finale, questo però, in corrispondenza, stato iniziale A, alfa diventa 4, a questo punto, sicuramente, la mossa che farà Max, in questo stato, è la mossa, che porterà nello stato, nello stato C, da cui, è chiaro che lui guadagnerà 4, fra l'altro, questa coppia ci fa capire, alfa 4, beta, infinito, che, male che va, cioè, supponendo che l'opponente, è perfettamente razionale, Max, facendo la mossa, che lo porta in C, guadagnerà 4, guadagnerà 4, o anche più, qualora l'opponente, non fosse perfettamente razionale, allora, l'efficacia, della potatura alfa, beta, che adesso dovremo cercare, di capire, e di stimare, dipende, non è scontato, dipende dall'ordine, in cui sono visitati i figli, forse, l'avrete anche intuito, dagli esempi che abbiamo fatto, perché, l'entità, della potatura, dipende, dall'ordine, in cui vengono espansi, i figli, se, nel caso di un nodo Max, la cosa migliore, sarebbe che i suoi successori, che sono Min, fossero ordinati, in modo che sia generata prima, la mossa, migliore per Max, perché, se, la prima che incontriamo, è la migliore, a questo punto, l'eventuale potatura, riguarderà, una fetta maggiore, di sotto albero, e, dualmente, nel caso del nodo, nel nodo Min, ecco, quindi, cosa si può dire, che nel caso ottimale, se il primo figlio, di un nodo Max, cioè, è un nodo Min, con la miglior mossa, che potrebbe fare, Max, in corrispondenza, di quel nodo, di quel nodo Min, figlio, a questo punto, e questo, dualmente, anche per i nodi Min, avremmo che il branch infetto, residerebbe, quindi, questo è il caso migliore di tutti, da B, a radice di B, il che corrisponderebbe, a parità del numero di nodi, a rendere doppia, la profondità dell'albero, esplorabile, a parità di nodi, numero di nodi espansi, in realtà, con un ordinamento casuale, possiamo stimare, che il branch infetto, si riduca, a B log B, e, quindi, avremmo sostanzialmente, una specie di tre quarti, diciamo, del, cioè, il branch infetto, si ridurrebbe a tre quarti, di quello di Minimax, che comunque, è una, una buona riduzione, per esempio, nel caso degli scacchi, con un ordinamento casuale, quindi, con questa riduzione, del branch infetto, con un branch infetto, non ridotto, di 35, più o meno, nelle mosse iniziale, con 10 mosse di profondità, avremmo, con una ricerca di, a profondità 10, avremmo, 2 milioni e 700 miliardi, di nodi, da espandere, con la potatura, con il branch infetto, da ordinamento casuale, scenderemo a 380 miliardi, da 2 milioni e 800 mila, a 380 miliardi. Nelle fasi centrali, con un branch infetto, da 18, portandolo a tre quarti, che quindi, sarebbe, circa, 14, branch infetto, scenderemo, da, 3 mila, 500 miliardi, di nodi espansi, a, 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 a 2 miliardi e 600 milioni, quindi, da 3 mila e 5 a 2,6. Quindi, effettivamente, poiché, la potatura, alfa, beta, anche con l'ordinamento casuale, dei, dei, dei rami, non portando a una perdita della completezza, in pratica oggi, si parla sempre di minimax, potato alfa beta, cioè, non ha senso non applicare l'algoritmo, che abbiamo appena visto. però, anche, come si vede già, dai numeri, del, del, del gioco degli schiacchi, anche con, potatura, il, il numero, del, dei, dei nodi, che si vanno a espandere, in casi realistici, è troppo alto. Quindi, nella prossima, unità didattica, vedremo, come, eh, affrontare, il problema, della complessità, dei giochi realistici, rinunciando, alla, completezza, e rinunciando, quindi, all'ottimalità, questo, eh, sarà inevitabile, applicando, dei concetti, di razionalità, li vediamo, nella prossima, unità didattica, nel, nel corso della quale, anche, getteremo, uno sguardo, a, a, come affrontare, i giochi, in cui, eh, entrano in campo, anche, dei componenti, delle componenti, di casualità, e anche, getteremo, proprio, uno sguardo, ma molto, 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 eh, superficiale, a come affrontare, anche, il caso, di giochi, in cui, l'informazione, è imperfetta, e, il, al contrario, di quello che accade, nel gioco degli scacchi, nei giochi, basati sulla scacchiera, ci sono alcune informazioni, che, al giocatore, che sta, concependo la strategia, sono, eh, nascoste, bene, con questo si conclude, questa unità didattica. grazie.